Salve, sono Aldo D'Alessandro. Da qualche anno ormai partecipo a questo gruppo di ricerca che abbiamo denominato Evolvenza. Evolvenza non è altro che la fusione dei due termini, delle due espressioni, evoluzione della coscienza, un concetto creato dall'italiano Bilotta, al quale abbiamo aderito in molti che si ispirano e seguono l'insegnamento dell'alta medianità. Il nostro scopo è quello di trovare tutti i punti di convergenza, soprattutto sui concetti fondamentali, ed esporli e chiarirli sia per noi sia per altri che intendessero aderire a questi principi. E' un viaggio di scoperta. Sappiamo che la conoscenza umana non ha mai un limite e c'è chi la amplia in certe direzioni e chi in altre. Noi abbiamo cercato di coniugare l'ambito spirituale con quello della vita quotidiana, cosa non facile, però con l'aiuto appunto di tanti grandi maestri che ci propongono, ci portano in continuazione insegnamenti nuovi e penso che la strada sia facilitata. Mi auguro perciò che siano molti quelli che come noi si dedichino a questa ricerca che non è fine a se stessa, ma secondo me è destinata a propagarsi alle generazioni future. Grazie.